Buonasera a tutti e benvenuti a questo evento finale di presentazione dei risultati del progetto Porcastro. A nome di tutto il gruppo vi do il benvenuto, per noi è emozionante e sicuramente motivo di orgoglio essere qui con voi questa sera e presentare quanto è avvenuto durante questo progetto. Pochissime parole prima di dare voce a chi ha tanto lavorato e chi si merita davvero i pieni riconoscimenti per tutto questo, per tutto il lavoro che è stato fatto durante il progetto. L'idea di questo progetto nasce dalla esigenza sempre più evidente da parte dei consumatori di avere delle informazioni relative ai prodotti di consumo che non riguardano soltanto gli aspetti nutrizionali o gli aspetti di salubrità ma anche gli aspetti etici e tra gli aspetti etici indubbiamente il benessere animale. Da questo punto di vista nell'allevamento del suino pesante la castrazione ha un impatto importante sul benessere animale ed è questo l'argomento che ha caratterizzato tutto il progetto e di cui inizierà a parlarvi la collega professoressa Sara Barbieri. Buonasera, buonasera a tutti voi e vi ringrazio di essere qui questo venerdì pomeriggio, quest'ora tarda. Ormai 5-6 anni fa abbiamo deciso di occuparci di questi aspetti perché sicuramente le mutilazioni rappresentano uno di quegli argomenti un po' più critici quando si parla di benessere animale e tra le varie mutilazioni la castrazione è uno di questi. Magari non ha un ruolo nell'allevamento sui nicolo, magari ha un ruolo marginale rispetto al taglio della coda che ha avuto tanto spazio nei discorsi dell'opinione pubblica negli ultimi anni ma sicuramente anche la castrazione ha un suo ruolo. La ricerca ormai ci ha detto molto, ci ha detto molto sull'impatto sia dal punto di vista del dolore, il dolore acuto e il dolore cronico che queste mutilazioni hanno sugli animali ma anche lo stress che queste mutilazioni possono rappresentare perché richiedono una manipolazione e soprattutto un contenimento molto importante degli animali. E proprio perché oggi la normativa consente che la castrazione possa essere fatta in maniera chirurgica senza degli adeguati metodi, degli adeguati protocolli di controllo del dolore, sempre di più si parla di alternative a questa tipologia di castrazione oggi ampiamente diffusa. E quali sono le principali alternative? Sono sicuramente quello di non castrare e quindi di allevare maschi interi. Questa non è un'opportunità che la realtà italiana può scegliere, però sicuramente è un'opportunità che per diversi paesi, soprattutto perché alleva un suino pesante, può essere una valida alternativa, una valida alternativa perché l'allevamento di questi animali oltre a evitare queste problematiche di benessere animale, garantendo anche l'integrità fisica dell'animale, sicuramente ha degli impatti positivi sia sulle performance di crescita, sia sull'impatto che questi animali possono avere sull'ambiente. Le alternative invece alla castrazione oggi sono rappresentate sicuramente dall'immunocastrazione e dalla castrazione chirurgica con l'impiego invece di protocolli per il controllo del dolore. L'immunocastrazione ha il vantaggio di evitare tutta una serie di manipolazioni dell'animale, ha sicuramente uno svantaggio legato sia alla necessità di somministrare, soprattutto più volte nel suino pesante, questo farmaco all'animale con un aumento anche molto importante dei costi come poi vedrete e sentirete successivamente. L'altra ipotesi è quella invece di continuare a castrare impiegando però farmaci anestetici e farmaci analgesici. E se ci guardiamo indietro e guardiamo appunto nei decenni precedenti, diversi paesi europei, proprio per rispondere alle richieste continue e pressanti dell'opinione pubblica, hanno deciso di intervenire con delle normative nazionali per mettere dei paletti a questa tipologia di castrazione. Quindi come vedete anche molto recentemente paesi come la Germania o come la Francia hanno introdotto il divieto di castrazione chirurgica senza ricorso all'anestesia. E infatti negli ultimi anni c'è un aumento degli animali trattati in maniera differente e una riduzione, una conseguente riduzione dei suini castrati senza anestesia o analgesia in Europa. Com'è la situazione di quella percentuale? Oggi si parla circa un 40% degli animali che non vengono castrati. Alcuni paesi hanno deciso di indirizzarsi all'allevamento del maschio intero. Sono chiaramente quei paesi che storicamente attuavano questa pratica per motivi legati appunto al benessere animale o per motivi legati anche alla tipologia di produzione, ma possiamo vedere come l'allevamento di maschi interi stia aumentando in diversi paesi europei come per esempio il Belgio, la Francia, la Germania ma anche la Svizzera. Quindi sempre di più questa alternativa alla castrazione diventa l'alternativa possibile. In Italia proprio per la tipologia di produzione questo allevamento è decisamente poco utilizzato. L'altra alternativa è rappresentata dall'immunocastrazione. Oggi si parla di un 2,7% della popolazione europea che ricorre a questo tipo di alternativa. Anche qui possiamo notare come i paesi stanno progressivamente aumentando, il numero di animali sottoposti a questo trattamento sta progressivamente aumentando in un numero sempre maggiore di paesi. In Italia oggi si parla di un 5% della popolazione di maschi che vengono sottoposti a questa tipologia di alternativa. Per quanto riguarda la castrazione invece chirurgica con anestesia e analgesia, anche qua i dati più recenti che abbiamo parlano un 5% di animali che viene diciamo castrato e sottoposto a un corretto piano di controllo del dolore quindi per il quale viene utilizzata sia un'anestesia che può essere locale o generale e un'analgesia, mentre un 41% di animali che viene sottoposto solo alla somministrazione di un farmaco analgesico che nella maggior parte dei casi è un antinfiammatorio, un FANS. Questi dati in Italia sono decisamente più ridotti, si parla di uno 0,5% di animali sottoposti a un protocollo corretto mentre un 2,5% di animali sottoposti al solo protocollo analgesico. Nel 2017 è stato fatto, è stato un gruppo di lavoro europeo, ha prodotto una sorta di refresh della dichiarazione europea sull'alternativa alla castrazione che era stata fatta nel 2010 dove si evince un po' come la castrazione in Italia sia magari poco considerata da parte dell'opinione pubblica proprio per la tipologia di produzione che allevando un suino pesante non può ricorrere a un'alternativa che sia un'alternativa di evitare la castrazione degli animali. Abbiamo anche recentemente alcuni documenti che si esprimono per esempio su alcune di queste alternative come può essere l'immunocastrazione, pareri contrastanti. Abbiamo nel piano di controlli per esempio del prosciutto di Parva, del prosciutto San Daniele troviamo una certa opposizione all'uso dell'immunocastrazione mentre la recente opinione dell'EFSA addirittura preferisce o comunque sostiene che l'immunocastrazione sia da preferire anche all'allevamento del maschio intero perché ha chiaramente un impatto positivo sul benessere animale riducendo o comunque azzerando completamente quei comportamenti sessuali indesiderati piuttosto che un'elevata aggressività che può essere tipica del maschio intero. Questo è un po' il contesto in cui si è inserito il progetto Porcastro e adesso vediamo un po' che cosa invece abbiamo fatto noi in questo lungo percorso che è iniziato nel 2018 e si conclude oggi. Grazie Sara, effettivamente questa presentazione ci aiuta a capire a meglio capire quale sia stato l'obiettivo di questo progetto e quale è la sua importanza. Il progetto Porcastro ha come obiettivo il miglioramento del benessere dei suini valutando metodiche alternative alla castrazione chirurgica così come viene praticata oggi. Il progetto per noi ha rappresentato un'opportunità per continuare il percorso intrapreso negli ultimi anni sul miglioramento delle condizioni di vita del suino nelle allevamenti. Più della metà dei suini maschi in Europa viene sottoposto a castrazione chirurgica e non riceve alcun trattamento del dolore. Sebbene questo sia concesso dalla normativa europea, inevitabilmente costituisce una criticità per il benessere animale. L'indirizzo produttivo della filiera suinicola italiana è rivolto alla trasformazione di prodotti per la DOP che richiedono l'allevamento di un suino pesante di almeno 9 mesi di età. Viste queste necessità, non tutte le alternative sono attuabili nel nostro contesto produttivo. Per questo motivo abbiamo valutato l'immunocastrazione e l'utilizzo in allevamento di efficaci metodiche di controllo del dolore. Il progetto prevede un'analisi economica con il calcolo dei costi aggiuntivi di investimento e di gestione relativi alle diverse alternative alla castrazione chirurgica senza la riduzione del dolore. Un'analisi che consentirà di verificare se l'incidenza sui costi di produzione del suino pesante sarà sostenibile economicamente per le tasche degli allevatori. Benissimo, quindi come è stato già illustrato nel video che avete appena visto l'obiettivo principale del progetto Porcastro è stato quello di migliorare il benessere dei suini allevati mediante la verifica in campo di tecniche alternative alla castrazione chirurgica praticata oggi senza analgesia e o anestesia, chiaramente con un focus sull'allevamento del suino pesante per la tipica produzione italiana. Il progetto si è articolato in quattro fasi integrate ma separate in cui la prima fase ha avuto l'obiettivo di valutare gli effetti sul comportamento, sullo sviluppo testicolare sessuale, sui parametri produttivi dei suini da ingrasso in seguito a immunocastrazione. La seconda fase invece ha preso in considerazione la castrazione chirurgica con diversi protocolli per il controllo del dolore e quindi la valutazione dell'applicabilità di questi diversi protocolli in suinetti sottoposti a castrazione chirurgica e sono stati utilizzati approcci farmacologici ma anche approcci non farmacologici. La terza fase ha invece preso in considerazione un particolare tipo di anestesia gassosa e in questo caso, in questa parte di progetto, l'obiettivo è stato soprattutto quello di valutarne l'applicabilità in campo di questo dispositivo portatile. L'ultima fase, già introdotta nel video che avete visto precedentemente, è altrettanto importante, è stata proprio quella della valutazione dell'impatto economico e quindi un'analisi economica dei costi di investimento e di gestione delle diverse tecniche applicate. Vi presento quindi le borsiste e le giovani ricercatrici che hanno lavorato a questo progetto e a cui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti e anche congratulazioni per i risultati conseguiti. Quindi c'è Emanuela Dallacosta, Federica Piglia e Gaia Presenti e Rossi. Mi chiamo Emanuela Dallacosta e durante il progetto Porcastro mi sono occupata della preparazione e dell'analisi citologica dei campioni biologici prelevati in macello. Mi chiamo Gaia Presenti e Rossi e durante il progetto Porcastro ho partecipato alla raccolta dati in allevamento e alla preparazione del materiale scientifico e divulgativo. Mi chiamo Gaia Presenti e Rossi e durante il progetto Porcastro Questo credo sia anche un valore aggiunto importante di questo progetto che ha dato la possibilità a tre giovani ricercatrici di iniziare a occuparsi di questi aspetti. Abbiamo avuto sia persone che si introducevano per la prima volta al mondo della ricerca in quanto abbiamo potuto finanziare due borse giovani promettenti sia invece far continuare nel suo percorso di ricerca un assegnista all'interno del nostro gruppo. Ora vi presentiamo due brevi video con i principali risultati delle due fasi abbiamo deciso di costruire questi due video Michela vi ha un po' illustrato come si è svolto il progetto Porcastro abbiamo deciso un po' di unire queste fasi all'interno dei video quindi vedrete i primi risultati dell'immunocastrazione nel primo video successivamente un secondo video con i risultati della castrazione chirurgica e in fondo potrete anche apprezzare un po' quelli che sono i risultati della valutazione tecnico-economica di queste due metodiche. Studi e ricerche hanno messo in evidenza che una percentuale significativa di cittadini europei desidera essere informata sulle qualità etiche dei prodotti tra le quali ha grande rilevanza il benessere animale sia perché è considerato uno degli attributi della qualità dei prodotti di origine animale sia perché risponde alla preoccupazione etica riguardo l'approccio dell'uomo nei confronti degli animali che da lui dipendono. Il progetto Porcastro è un progetto finanziato da Regione Lombardia e ha l'obiettivo di migliorare il benessere dei suini allevati attraverso lo studio di soluzioni alternative ai metodi di castrazione oggi praticati negli allevamenti sui nicoli italiani. Ci troviamo presso il polo di Lodi dell'Università degli Studi di Milano dove il gruppo di ricerca del Dipartimento di Medicina Veterinaria coordina il progetto in collaborazione con Fondazione CRPA Studi e Ricerche di Reggio Emilia Fondazione IRCCS Cagranda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e allevamenti di Nerviano La castrazione degli animali di allevamento è una procedura che è considerata critica da opinione pubblica e dal consumatore che è sempre più attento al benessere animale. È per noi quindi importante trovare delle soluzioni alternative a questa pratica. Tuttavia la sua eliminazione comporta la presenza nelle carni e nei prodotti stagionati derivanti da suini che hanno già raggiunto la loro maturità sessuale di una caratteristica sensoriale indesiderata, comunemente chiamata odore di verro. Una strada praticabile nell'allevamento del suino pesante che quindi viene macellato oltre i 9 mesi di vita è l'immunocastrazione che è una vaccinazione che inibisce lo sviluppo degli ormoni sessuali. In Procastron abbiamo valutato l'efficacia e la sostenibilità attraverso una raccolta dati effettuata in allevamento e al macello. Per il nostro studio sono stati reclutati due gruppi di animali. Il primo gruppo è stato sottoposto a immunocastrazione. Il secondo è stato sottoposto a castrazione chirurgica prima dei 5 giorni di età. Ci siamo focalizzati sul valutare la presenza, l'intensità e l'evoluzione di alcuni comportamenti come il comportamento sessuale e quello aggressivo. Questi comportamenti sono stati valutati nei due gruppi ad intervalli regolari. La valutazione del comportamento ha evidenziato che nel gruppo di immunocastrati l'attività era maggiore rispetto a quello dei castrati, in particolare nel primo mese di rilievi. Con attività intendiamo tutti quei comportamenti in cui l'animale non è sdraiato a riposare, come ad esempio il comportamento esplorativo, quello sessuale oppure quello aggressivo. Sono stati valutati questi comportamenti e le conseguenti lesioni che essi possono causare sul corpo degli animali. Le lesioni corporee sono state rilevate in maggior numero nel gruppo degli immunocastrati per tutta la durata dello studio. All'inizio della prova il divario tra due gruppi risulta essere maggiore a causa delle lotte necessarie per stabilire l'ordine gerarchico. In questo laboratorio abbiamo eseguito un test ELISE di tipo competitivo sui campioni di saliva e questo ci ha permesso di monitorare i livelli di testosterone nel tempo e nei due gruppi. Se guardiamo il grafico, il gruppo degli immunocastratti si possono vedere due picchi. Il primo rappresenta la comparsa della pubertà, mentre il secondo, circa due mesi dopo, può essere dovuto all'esaurimento dell'effetto della vaccinazione. Invece, dal time point 7 in poi, il valore del testosterone tra i due gruppi sembrano sovrapponibili e questo conferma l'efficacia del trattamento. In questo laboratorio sono stati valutati al microscopio i campioni citologici prelevati dai testicoli e dei suini sottoposti all'immunocastrazione. Sono state individuate cinque categorie a seconda del numero di spermatozoi visibili, dove uno corrisponde all'assenza di spermatozoi e cinque corrisponde ad un elevato numero di spermatozoi. Dall'esame dei campioni è emerso che nella metà dei soggetti è evidente una notevole riduzione fino anche alla totale assenza degli spermatozoi. Perciò anche questo esame contribuisce a confermare l'efficacia dell'immunocastrazione. Per valutare a 360 gradi l'immunocastrazione è stato necessario verificare l'impatto di questa pratica sui costi di produzione. La metodologia utilizzata all'interno di Porcastro ha considerato i costi del veterinario per l'esecuzione degli interventi vaccinali e quelli di acquisto dei farmaci utilizzati. L'analisi economica ha restituito un costo totale di 9-10 euro per singolo suino prodotto con un incremento del costo di produzione pari al 3-4% rispetto alla castrazione senza riduzione del dolore. Continuiamo quindi con il video invece relativo alla seconda parte del progetto e lo facciamo partire immediatamente. Studi e ricerche hanno messo in evidenza che una percentuale significativa di cittadini europei desidera essere informata sulle qualità etiche dei prodotti, tra le quali ha grande rilevanza il benessere animale, sia perché è considerato uno degli attributi della qualità dei prodotti di origine animale, sia perché risponde alla preoccupazione etica riguardo l'approccio dell'uomo nei confronti degli animali che da lui dipendono. Il progetto Porcastro è un progetto finanziato da Regione Lombardia e ha l'obiettivo di migliorare il benessere dei suini allevati attraverso lo studio di soluzioni alternative ai metodi di castrazione oggi praticati negli allevamenti suinicoli italiani. Ci troviamo presso il polo di Lodi dell'Università degli Studi di Milano, dove il gruppo di ricerca del Dipartimento di Medicina Veterinaria coordina il progetto in collaborazione con Fondazione CRPA Studi e Ricerche di Reggio Emilia, Fondazione IRCCS Cagranda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e allevamenti di Nerviano. La castrazione dei suinetti è una pratica considerata critica dall'opinione pubblica e dal consumatore che è sempre più attento al benessere degli animali. Quindi è per noi importante adottare delle soluzioni che minimizzano il dolore durante questa procedura. Per questo motivo è opportuno inserire nei nostri allevamenti dei protocolli anestetici e l'applicazione di un'efficace analgesia. Visto il crescente interesse nella tutela del benessere animale, diversi paesi dell'Unione Europea hanno introdotto dei sistemi di controllo del dolore durante la castrazione chirurgica del suinetto. È importante che noi allevatori comprendiamo queste dinamiche, non solo per anticipare cambiamenti legislativi e intercettare le richieste del mercato, ma anche per garantire un miglior benessere dei suini. Uno degli obiettivi del progetto PORCASTRO è di valutare le risposte comportamentali e fisiologiche a diversi protocolli di controllo del dolore, nonché la loro applicabilità in allevamento. Il protocollo che abbiamo scelto prevede l'utilizzo di un dispositivo portatile per anestesia gastronoma, associato all'utilizzo di una terapia farmacologica, come il Meloxicam, oppure una terapia non farmacologica, come la glucosata. L'analisi del comportamento ha evidenziato che tutti i soggetti del nostro studio, sia manipolati che castrati, hanno manifestato una riduzione del comportamento esplorativo, indipendentemente dal trattamento ricevuto. Tra gli indicatori comportamentali indicativi di dolore abbiamo valutato il decubito sternale. Questo, che non è mai stato messo in atto prima delle procedure, è aumentato in seguito ad esse, in particolare per quanto riguarda i suinetti sottoposti a castrazione. Un altro valido indicatore è la presenza di tremori. Questi, infatti, sono risultati assenti prima di ogni procedura, mentre si sono presentati con maggior frequenza, in particolare in seguito alla castrazione, e indipendentemente dal trattamento ricevuto. I nostri risultati potrebbero essere dovuti, da una parte, al dolore correlato alla castrazione chirurgica, ma anche alla riduzione della temperatura corporea dei suinetti. Con l'ausilio di una termocamera infrarossia, è stata valutata la temperatura superficiale nella zona della caruncola lacrimale. Dai dati è emerso che i soggetti partono con livelli di temperatura simili, attorno ai 37 gradi centigradi, e successivamente la temperatura si abbassa in torno ai 36 gradi, indipendentemente dalle procedure effettuate. Nei soggetti manipolati trattati con glucosa, abbiamo osservato una minor diminuzione della temperatura, suggerendo come questo possa essere utile a gestire lo stress da manipolazione a cui i suinetti sono molto sensibili. Per valutare l'utilizzo di protocolli analgesici e anestetici, è importante considerare anche il loro impatto sui costi di produzione. La metodologia di calcolo utilizzata tiene in considerazione i tempi di lavoro del veterinario e dell'addetto dell'allevamento per eseguire tali procedure, i costi dei farmaci utilizzati e quelli dell'attrezzatore accessorio. Il costo totale calcolato è pari a 4-5 euro per singolo suino prodotto, con un aumento sul costo di produzione di circa 2% rispetto alla castrazione senza riduzione del dolore. Va bene, d'accordo, allora speriamo che questi video siano stati utili, insomma, un po' a chiarire qual è stato il lavoro effettuato durante il progetto. Gli attori sono in formazione e abbiamo fatto il meglio che abbiamo potuto e confidiamo e confidiamo, insomma, nella vostra clemenza. Raccontiamo adesso brevemente l'attività di trasferimento dei risultati scientifici ottenuti durante il progetto. Abbiamo avuto la possibilità di pubblicare due lavori scientifici su una sua rivista internazionale peer-reviewed con impact factor in particolare sull'effetto dell'immunocastrazione sul comportamento e le lesioni corporee negli allevamenti di suino pesante e sulla castrazione dei suinetti con tutte le alternative possibili. Nel mondo non ci siamo limitate quindi al nostro paese ma grazie al lavoro e all'entusiasmo delle giovani ricercatrici che hanno lavorato in questo progetto sono stati portati due poster alla 73esima conferenza internazionale della European Federation of Animal Science progetti che mi raccontano e poster che mi dicono aver avuto notevole successo e aver riscosso interesse e molte domande da parte del pubblico. Sì, inoltre Sì, esatto Fresca Fresca un evento che in realtà deve ancora avvenire infatti la prossima settimana la dottoressa Presenti Rossi presenterà avrà una presentazione orale al congresso europeo del college all'European Congress of Behavioral Medicine and Animal Welfare College Abbiamo poi abbiamo poi nell'attività chiaramente abbiamo coinvolto anche studenti sia della laurea magistrale sia della scuola di specializzazione che il nostro gruppo ha da un po' di anni e abbiamo una tesi che è già stata discussa una tesi di laurea magistrale in medicina veterinaria sugli effetti dell'immunocastrazione che è già stata discussa e una studentessa della scuola di specializzazione in etologia applicata e benessere animale che l'anno prossimo presenterà invece una tesi sui risultati della castrazione chirurgica. Chiaramente non ci fermiamo perché i risultati che abbiamo raccolto sono tantissimi abbiamo diverse pubblicazioni in preparazione o in uscita a breve sia su riviste scientifiche sia su riviste di tipo invece divulgativo sia sull'effetto dell'immunocastrazione sull'istologia e l'acetologia testicolare del suino pesante i prelievi salivari ci hanno poi permesso di raccogliere una serie di interessanti dati qualcuno avete l'avete già sentito insomma avete avuto qualche anticipazione nel video sull'andamento del testosterone ma anche del cortisolo nel gruppo degli immunocastrati ma anche nel gruppo dei castrati e di un gruppo di maschi interi che siamo riusciti a coinvolgere nello studio e abbiamo poi una pubblicazione sui risultati della castrazione chirurgica e dell'impatto economico di queste alternative proprio nella produzione del suino pesante quindi insomma come dire seguiteci e dove ci potete ci potete seguire sicuramente sul sito web tutto il materiale che avete visto oggi è pubblicato sul sito web della fondazione CRPA se cercate sotto appunto nella sezione dedicata a questo progetto troverete tutto tutto il materiale nonché degli opuscoli di tipo divulgativo che raccontano un po' più nel dettaglio diciamo quanto avete sentito e quanto avete appreso dai due video rimaniamo poi a disposizione per qualsiasi domanda e vi ringraziamo e vi ringraziamo tantissimo esatto per il sostegno ringraziamo tantissimo le persone che ci hanno aiutato e che ci hanno permesso di portare avanti questa sperimentazione che per diversi motivi insomma alcuni anche comprensibili è durata alla fine quattro anni e lascio l'ultimo ringraziamento all'ultimo ringraziamento e gli auguri che sono quelli insomma arrivati venerdì pomeriggio e sera di trascorrere il fine settimana sicuramente divertendovi ma anche riposando un po' come così come sanno fare molto bene i nostri suinetti di questa immagine quindi troverete appunto le informazioni e gli aggiornamenti sul sito del progetto vorrei anche dire che anche questa presentazione che abbiamo fatto oggi per chi non si è potuto collegare in questo momento sarà disponibile sempre sul sito del progetto e poi man mano le pubblicazioni verranno saranno disponibili le metteremo anche lì in modo che possiate trovare insomma in questa sorta di catalogo tutto quello che abbiamo prodotto con questo progetto grazie arrivederci grazie a tutti arrivederci buona serata